Ingredienti per 4 persone di filetti di manzo in polvere di pistacchio 150 grammi di filetto di manzo in un pezzo unico un cucchiaio di senape media 50 grammi di granella di pistacchi pistacchi frullati 2 barbabietole medie ricotta stagionata 10 grammi di burro sale e aromi a piacere olio d'oliva cubi Preparazione filetti di manzo in polvere di pistacchio Filetti di manzo in polvere di pistacchio Lessate le barbabietole intere Una volta cotte raffreddatele immediatamente in acqua e biaccio spellatele e frullatele con poca acqua sale e olio d'oliva a filo Tenete in caldo fino al momento dell'impiattamento Passate il lato del filetto nella senape e poi nella polvere di pistacchio e cuocete da entrambi i lati in una padella a fondo spesso con burro un filo di olio aromi e sale fino a ottenere la cottura preferita nella fotocottura media Adagiate con l'aiuto di 2 cucchiai 2 di purè di barbabietola sui latti del piatto Ponete il filetto al centro e decorate con lamelle di ricotta stagionata Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!